salve a tutti ragazzi io sono shao raga e questo è il mio nuovo video allora siamo tornati su edge molto tempo dopo l'ultima avventura più che altro perché non so come mai ho provato a arreccare alcune volte ma il video riuscivano sempre male quindi adesso il problema dovrebbe essere risolto speriamo vada bene allora c'eravamo lasciati sul livello 16 mi pare che sia il 16 no sul livello 17 cerchiamo di portarlo al termine nel modo migliore possibile vai o le moto il brusci fuori scale buono bene preciso però senso della posizione impressionante vediamo un po se io passo sopra foto il sistema al posto faccio le grandi finte a posto abbiamo risolto un piccolo impiccio ok no dovevo stare qua abbiamo quasi finito il livello preciso preciso guarda non sono morto sono morto una sola volta due volte nello stesso punto preciso va bene abbiamo risolto il livello 16 no 17 va bene ecco ok allora vediamo un po come 1 ok c'è una sequenza giusta da premere ok forse è così a sto punto è andata pure questa si prosegue vai no non mi servono i consigli no non forse servono eccolo vai non servivano semplicemente non è riuscito a farlo avanti ed è il tempo di edge preciso un po più in fretta vai e qua in mezzo e intanto per sicurezza prendo questi poi vediamo che succede se clicco questo qua dentro vabbè un tentato sui figli ok andata pure questa beh faccio così problemi no è andata pure questa eeeh questo è brutto no vai ok 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 stiamo diventando bravi dai nonostante che è un bel po che non ci gioco più stiamo diventando discretamente bravi ancora qualche cappellata si fa però non ci fa niente no ah è il robot vai andiamo avanti con il nostro bel robot vai vai robot vai oh guarda che gentile ci ha accompagnato fino alla fine del livello andiamo avanti livello 19 dovrebbe essere ok bella sta musica oh vai piano però se non muori no che fortuna ragazzi proprio fortuna ok pezzetti pezzetti andiamo avanti oh vai c'è qualche fregatura lo sapevo io lo sapevo io dai corri corri stronzo corri stronzo vai vai è finita è finita e ce la fa senza morire neanche ultimo livello una bella abbiamo preso ultimo livello dai perché oggi siamo carichi non sono morto non sono morto ma ci sono le scale per risalire pensavo di essere morto già stavo mandando qualche colpo infatti adesso si ah non c'è adesso si vai no vai no non so come ho fatto ma ci sono riuscito via oh guarda quanti bei prism colorati no tradimento sì per forza è qua allora andiamo qua dai stiamo facendo una partita discreta senza neanche troppe morti ci possiamo reputare soddisfatti cioè mi posso reputare soddisfatto e bene su questo livello possiamo chiudere il video abbiamo fatto 5 livelli mi pare se non ho sbagliato a contare sì mi posso sono andato abbastanza a pezzo come sempre vi invito a mettere mi piace a commentare a condividere a iscrivervi al canale se non siete già iscritti e al prossimo appuntamento qui con ciao raga ciao ragazzi ciao a tutti Grazie a tutti.